gli ambulatori. Adesso arriviamo a complimento nel senso che abbiamo ampliato, abbiamo più che raddoppiato, come ha detto il Presidente, gli ambulatori e quindi abbiamo recuperato la gran parte di questo convento. Dall'altra parte c'è l'umanitaria che è già sistemato, quindi abbiamo un monumento nazionale importante che rinasce con un lavoro lungo che viene a complimento. I lavori sono stati più o meno complicati perché lavorare su un monumento non è facile e abbiamo utilizzato il massimo della tecnologia. Per esempio abbiamo usato una delle prime volte queste piastrelle antibatteriche, cioè che tolgono il 99% dei batteri presenti. È una piccola cosa ma vuol dire l'attenzione a queste cose. Quindi nel futuro degli ambulatori si apre una nuova pagina in cui il complesso del Caymi si arricchisce di altre cose. Il Caymi è una specie di perla nell'insieme delle nostre strutture sanitarie, nel senso che ha tutti i servizi previsti e anche poi un grande futuro davanti. Grazie.